Ciao a tutti, oggi farò la recensione di un prodotto un po' diverso dal solito. Mi è appena arrivato il pacco e sono molto curioso di vedere com'è, quindi andiamo subito ad aprirlo. Eccolo qua, si tratta di un fotoquadro, vi devo dire che è veramente molto bello, non me l'aspettavo neanche fatto così bene. Prima di tutto ringrazio l'azienda Sal Digital che mi ha dato l'opportunità di provare questo loro prodotto. Vi lascio in descrizione il link del loro sito dove potete trovare anche tanti altri prodotti dalle semplici foto ai fotolibri, ma anche poster, calendari, cartoline e molto altro ancora. Io come foto ho scelto una dei miei ultimi giri in bici da corsa con i magnifici tornanti dello stelvio. La stampa di questo fotoquadro è davvero di alta qualità, molto definita e precisa nei dettagli. Belli colori e anche la luminosità che dà questo alluminio su cui è stampato. Mi aspettavo sinceramente venisse molto meno bene anche perché avevo scelto una dimensione un po' troppo grande rispetto alla risoluzione della fotografia e invece il risultato è molto bello. La dimensione che ho scelto è di ben 60x40 cm e come materiale ho deciso di usare l'alluminio di bond. si possono scegliere anche altri tipi di materiali su cui stampare, ce ne sono un po' di tutti i prezzi, ci sono due tipi di allumini, poi si può stampare su metacrilato, su PVC oppure anche su tela. forse sul sito avrei messo qualche informazione in più sulle caratteristiche dei vari materiali per una scelta più semplice. La procedura per poter fare l'ordine è molto facile, basta scaricare un programma dal loro sito e seguire tutte le indicazioni per scegliere il prodotto o il materiale su cui stampare. A questo punto viene chiesta di caricare la foto e si può passare alla fase di editing per impostare la fotografia come vogliamo. Quando è pronta si invia l'ordine e si completa il pagamento. Questa è la versione base ma si possono anche aggiungere delle cornici per avere un prodotto ancora più rifinito oppure si possono richiedere gli annelli per poterla appendere sul muro ma avendoli già ho scelto la versione senza accessori. Devo dire che sono stati molto professionali e velocissimi nella realizzazione. L'ho ordinato di sabato, martedì l'avevano già spedito e oggi che è giovedì mi è già stato consegnato con DHL. Un servizio veramente al top sia per qualità sia per velocità. Ringrazio ancora SalDigital per il regalo e vi lascio come detto il link in descrizione. Tra l'altro ci sono spesso diversi sconti sul primo acquisto attraverso il loro sito. Spero che la recensione vi sia piaciuta e che vi possa essere utile per la scelta dei vostri prossimi acquisti. Se volete potete lasciare un bel mi piace qui sotto e iscrivervi al mio canale per seguire i prossimi video. Un saluto a tutti e alla prossima recensione! Grazie!